Salve, questo fucile mi ricorda molto quello che usavano gli A-Team, o più o meno è simile a quello, infatti avevano un fucile argentato. Non spara niente, non è solo così, non spara prerteli né veri né finti, logica, né non veri. Abbiamo anche la scatola, purtroppo la plastica non è visibile, purtroppo la plastica non è integrale, brutta. Ed è l'European Toy Mitra G24 Williams. Grazie. 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 Grazie.